Commenta anche tu con queste moti con delle paline se vuoi ricevere un cuore da parte mia Allora ragazzi abbiamo un problema, in pratica abbiamo Immorte che vuole entrare dentro all'idromassaggio Però abbiamo un problema, si è rotta la caldaia E in pratica l'acqua è freddissima, abbiamo riempito tutto quanto di acqua super fredda Perché ci è venuto un lampo di genio sotto, abbiamo messo delle bacinelle enormi, tipo delle pentole enormi Abbiamo fatto bollire l'acqua, perciò adesso quello che faremo è prendere quelle pentole e portarle su, perciò venite con me Eccomi in cucina, come vedete ragazzi l'acqua qui sta già bollendo, speriamo di non fare dei danni Tra l'altro questo ragazzi l'abbiamo messo esattamente sotto tre fiamme, una, due No, la seconda fiamma si è spenta, rip, adesso mai esplodiamo in aria ragazzi E là abbiamo un'altra fiamma, l'acqua sta per bollire in tutti quanti, adesso cercherò di prenderli e portarli su Allora ragazzi eccoci qua, noi abbiamo il ferruc e abbiamo anche Eze Adesso io e il ferruc cercheremo di portare su tutte queste bacinelle piene d'acqua ragazzi Ormai c'è tipo qua sta già bollendo, anche qui sta quasi per bollire, invece qua l'abbiamo già versato una volta su E vi assicuro che avendo versato una così piccola sopra dentro all'idromassaggio non è successo nulla Perciò adesso proveremo a prendere queste due Tu lo sai che ci facciamo male? No non è che ci facciamo male, cioè se ci vogliamo andiamo in ospedale Perciò voi non fate la casa e assicuratevi sempre di avere la caldaia che funziona, non fate come noi Oh tu guarda che dovrai prendere un lato e io un lato, anzi tirala giù te Ma io sto pensando Riesci tu da solo? Se portiamo questa che è, tra virgolette, è fattibile, ok? Sì, questa E poi la smeziamo Lo sapete vero che è una cosa rischiosissima, che se vi casca per sbaglio la pentola The floor is lava! Sì, però è andata male No, 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 mica mi sta prendendo fuoco Vai ferruc! Si parte con la prima pentola Ok, qua ci sei? Vai, vai, vai ferruc, vai Ma che fuma! Si, si fuma, bra Sembra di portare l'incenso, tipo in pieza Fai attenzione Ce la fai, ce la fai, bro Tranquillo Ci siamo Ormai siamo quasi arrivati, io ti faccio strada di qua Vieni, vieni Ti ho giocato assurdo Eh beh, è normale, ti sta tutto arrivando indosso, rampa bollente Vai, vai ferruc! Ci sei qua, te lo fai al pc, eh! Se gli non lo fai ci muoio Se si scioglie il pc Vai, appena ci sei qui Tento, piano Vai ferruc! Vai! Secondo me ragazzi non gli avrà fatto nessun effetto questa acqua bollente Tocco? Niente È gelata? È gelata, sì No, non è possibile Sì, tra, guarda Ma è normale raga C'è troppa più acqua fredda di quella calda È normale È normale Vediamo cosa succederà È normalissimo Ma secondo te sta roba Riusciremo mai a scaldarlo oppure no? Secondo me no Ma almeno renderla vivibile ragazzi Perché è congelatissima Secondo me no perché c'è troppa acqua gelata già nella vasca Si parte con la seconda Nel frattempo a te che sta accendendo gli altri fornelli Che calore! Vai con la seconda pentola Tocchiamo? Prova? È gelata Forse qui fa sentire qui dove viene versata No è gelata È gelata? Sì Porca miseria Two hours later Allora ragazzi Dopo aver versato circa sette bacinelle Enorme di acqua bollente Finalmente abbiamo portato L'acqua a temperatura non calda Ma vivibile Che fida Mi pare che c'è il biribongo che non morirà del tutto Ma comunque verrà congelato Regà voglio proprio vedere come diventa Quello si azionano anche le palline Cioè le bollicine voglio vedere che effetto fanno sulle palline Verso il primo eh Vai Forse Forse ne basterà solamente uno eh No Butta 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 C'è questo cartone qui C'è il cartone oh No anche quella vai Vecchia facciamo Anche quella vai 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 È lo sborone Oddio mio Ma è una figata Vai raga ma non ci stanno nemmeno tutte Oh entro Entro adesso Assolutamente Vado 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 Tutti dobbiamo entrare? Aspetta aspetta che provo eh Vediamo l'acqua com'è Uh È bella freschetta eh Porca miseria ragazzi Com'è bella fresca l'acqua Uh Però fa un freddo Che si congela Ah c'è il piripopo che può scompare Ah 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 Oh no Ma no Oh ma mi si mette solo la testa Vai vai un altro un altro Ma c'ho paura che escano Aspetta Si muovo un tanto Oh c'è una che è partita in cielo Ma non è fredda Vai calda Vai giù Bollente vecchio C'è fumo no? C'è frigo Beh non è proprio freddissima eh Appena c'entri guarda che E' da l'usso molto convinto infatti Ah 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 Ok 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 Vai entri in spirito Sektor Non ci stiamo Ci stiamo Ci siamo Dai Siamo stati in quattro Sektor dove hai lanciato la voce? Eh non ce l'ho mai avuto Aspetta Ma io ci sono le mie gambe di Eh fra non vedo nulla Ma neanche noi Oddio Oh mi è giù Ben huggingata Ma non proprio eh Non tanto Alta a destra Ben Proόσime Che 악igna Inefficiennes Ah no Stanno cadendo tutti Oh l'espetto Eh sienta Ah però se le butti giù Eh ma guarda quant'è Che ne ho indietro Ne ho imbotto Oddio vabbè grazie eh oh com'è com'è? c'ho lo scarico che mi sto toccando pure aggiustati intanto arrivano palle da la ragazzi date un voto da 1 a 10 a questo idromassaggio con anche le palline oh ragazzi vengo preso una pallina ah è la sua aia aia mi fa male però si sta bene dopo un po' si sta stra bene intanto arrivano sempre palle lanciate di là esatto esatto è sempre morta ragazzi oh ok è caputo via sta finendo male questo video sta finendo male sta finendo male non riesco a ballare vecchio ragazzi siamo arrivati fino alla fine di questo video mi raccomando iscrivetevi al canale ha seguito il cappolino se volete altri vlog qua aiai perivoco con gli wands aiai per la